Perfetto e tutti vogliamo essere felici, vero? E questo segreto è quello di amare. E noi per amare abbiamo questo dato dove ci sono sempre diverse fasi che ci aiutano a passare bene la giornata. Come ci andiamo a ricetta? Mi faccio uno con l'altro, c'è una vicenda, amo per primo. E' uscito? Amo la Nelì. Ciao, quindi oggi dobbiamo finire. Amo il Temico e buon ragazzo a tutti. Grazie.